Salve Ancelotti, bentornato a Napoli, ti trovo da Canale 21, siamo in diretta. Che effetto le fa tornare a Napoli e trovare il Napoli al Maradona, allenato oggi da Rudy Garcia, in questa competizione tra l'altro? Ritrova il Napoli, competizione nella quale non solo lei è molto vincente, ma lo stesso Real Madrid, tant'è che Garcia ha detto è la casa del Real Madrid. Tornare a Napoli è un po' un ritorno al passato, ricordare il periodo passato qua, che sono stati momenti molto buoni, il fatto di vivere in una città meravigliosa, momenti buoni, momenti meno buoni, ma alla fine rimane sempre il ricordo di un'esperienza positiva. Per quello che riguarda la partita, è chiaro, è una partita sicuramente la più difficile della fase di gruppo per noi, la realtà è che non voglio dire che siamo abituati a questo tipo di partite, ma la maglia del Real Madrid pesa per tutti, pesa per noi in maniera positiva, pesa anche per gli avversari, il Real Madrid è una istituzione in questa competizione e questo credo che aiuti.